In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte. Egli disse, seguimi, ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli, come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire. Misericordia io voglio, e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Gesù ad alcuni dice vieni, ad altri dice va, e solitamente a quelli che guarisce da qualche infermità dice va, cioè non gli permette di seguirlo, ma li rimanda a casa. Mentre ad altri, diremmo insospettabili, dice vieni, e li chiama ad una sequela stretta. Non ci addentriamo dentro i criteri con i quali Gesù opera questo discernimento. Probabilmente anche lui non ne aveva piena consapevolezza. La vocazione riguarda direttamente la mente imperscrutabile del padre. Fatto sta che oggi un altro insospettabile viene convocato da Gesù. Matteo, futuro santo evangelista, quel giorno ha cominciato la sua carriera di discepolo speciale. Con un sì, ha deciso di seguire Gesù. Ma per andare dove? Esattamente a casa sua. Come per Zaccheo ed altri, queste grandi conversioni vengono inaugurate con un lauto banchetto. Ma non è stato così anche per il figlio del prodigo? E ovviamente, come in quella parabola, il fratello maggiore non gradì la generosità del padre e anche oggi la stessa storia. I farisei sono un po' quel fratello maggiore, ma è capaci di gioire della gioia degli altri.